Onorevole Penillo, questo ennessimo ritardo dell'aia è una domanda che le sto facendo civilmente. Non ho voglia di rispondere a parte. Perché sono fatta? C'è l'aia che è svizzata in un uomo. Vede questo foglio? Le mamme e i papà di Taranto chiedono il diritto all'aia, onorevole. Onorevole, stiamo parlando, nessuno la sta offendendo, nulla sul piano personale. Stiamo ragionando per questo. Io non ho voglia di parlare con lei. Non è con me, con la città. Non rappresenta nulla. No, è lei che cosa ha fatto? La questione è che ci sta vicino e i cittadini vogliono rispondere a lei, onorevole. Gli aiuti di Stato, 800 milioni di euro, questi sono aiuti di Stato o no, onorevole. Non è scritto su tutti i giornali. Noi stiamo dialogando, non c'è una persona che fa parte di un partito democratico. Fa parte di un partito democratico, no? Stiamo facendo una bella passeggiata. Comunque, onorevole, perché non partecipa a una trasmissione così? Civilmente espone le sue idee, no? La trasmissione... La trasmissione... La trasmissione... Ah, sì? Ah, sì? Mi sa che nessuno voterà più lì. Questa è continua via... E si racconta la trasmissione... La trasmissione... Un po' di questo punto è il numero 2, Il numero 2... Il numero 3... ... l'la切ita delle cose...